Creare nuove reti e nuovi modelli, ma soprattutto mirare uno sviluppo sostenibile che sappia coniugare innovazione e tradizione. Questo è il centro di un incontro promosso da Cooperative di Forlicesena dal titolo Innovare nella tradizione, nuove reti e nuovi modelli per uno sviluppo sostenibile dell'Appennino. Credo che il nostro territorio collinare sia veramente una somma di peculiarità, di eccellenze che uniscono la tradizione alla parte innovativa. Quindi il fatto di utilizzare Cotur, che è di fatto una mappatura territoriale che si svolge sulle nove province con delle declinazioni del tutto particolari, luogo per luogo. Ci interessava essere a nostra volta dei attori di questa parte, di questa mappatura, dare e mettere a disposizione il tassello che si evince da questa parte di Romagna, mettendo in luce alcuni aspetti, che sono indubbiamente il turismo sostenibile sul quale puntiamo moltissimo, che vuol dire mettere in rete aziende che a loro volta si mettono in rete con altri territori. Una forma di incoming, però di tipo diverso, che è più vicina al bisogno dell'utente finale. L'obiettivo è quello di una tessitura, di una rete che abbia tutte le caratteristiche per permanere al di là di questo momento magari di particolare attenzione e di lustro. Una struttura leggera, non vincolante, che però permetta a tutti coloro i quali si ritrovano all'interno di questa filosofia di poter procedere a realizzare qualcosa di tangibile e soprattutto di duraturo.